Stamattina ho letto un articolo di Milano Finanza dove si annunciavano 40.000 assunzioni in tutta Italia con la Castelli che dichiarava che si è finalmente sbloccata la questione per i comuni ma ci rientriamo pure noi come comune di Napoli o sulle assunzioni negli enti locali? Comuni noi aspettiamo il via libera per quanto ci riguarda in particolare il 21 giugno il 21 giugno che a quanto pare diventa una giornata non vorrei citare l'aspetto più importante che è la visita del Santo Padre no la visita del Santo Padre la visita non mi sarebbe permessa la visita del Santo Padre Anna quindi il 21 giugno noi attendiamo per una serie di motivi con trepidazione perché dovremmo avere il via libera dalla Commissione del Ministero dell'Interno in modo che noi dai primi di luglio siamo in condizione di assumere quindi quel via libera noi crediamo di averlo sicuramente perché le notizie che abbiamo sono assai confortanti poi se si sbloccano anche altre cose come ho chiesto dire al Presidente del Consiglio devo dire approfitto perché il Vice Ministro Laura Castelli devo dire è sempre attenta non ha mai fatto mancare la sua sensibilità sui temi degli enti locali io credo che si può fare parecchio e si deve fare parecchio perché con la quota 100 altrimenti noi andiamo in totale affanno ma non parlo solo di Napoli noi il piano di resistenza e di contrattacco l'abbiamo messo in campo il 21 giugno non si può rinviare si deve assolutamente decidere ci aspettiamo la telefonata giusta da Roma in modo che i primi di luglio già assumiamo molte qualifiche scorrimento delle graduatorie poliziotte municipali giardinieri informatici, ragionieri insomma una bella infornata anche di persone fresche abbastanza giovani cioè si può passare gli anni questi giovani non sono più giovani quindi